Il Giro d'Italia è una cosa particolare, una corsa particolare, soprattutto per un italiano è il massimo. Ho vinto tante corse, però una tappa come il Giro d'Italia si sogna sempre di notte. Io quest'anno voglio regalare a loro una grande vittoria, quindi cercherò in tutti i modi di ottenerla. Il Giro d'Italia Il Giro d'Italia si sogna sempre di notte. Non v'attente, non v'attente per un'attente, non v'attente. Il Giro d'Italia si sogna sempre di notte. Il Giro d'Italia si sogna sempre di notte. Grazie a tutti.